L'ex assessore regionale alla protezione civile Raffaella Paite e la dirigente della regione Gabriella Minervini dovranno comparire in tribunale il prossimo 2 marzo nell'ambito del procedimento che le vede accusate di omicidio e disastro colposi in riferimento alla mancata allerta per l'alluvione del 9 ottobre 2014 a Genova che costò la vita all'ex infermiere Antonio Campanella. Il giudice per l'udienza preliminare Ferdinando Baldini dovrà decidere se rinviare o no a giudizio la Paite a Minervini. Intanto una trentina di commercianti che hanno subito danni dall'alluvione hanno chiesto di costituirsi parte civile e di chiamare in causa nel processo la regione come responsabile per il risarcimento dei danni. La richiesta è arrivata nel corso della prima udienza preliminare davanti al GUP che ha rinviato al prossimo 3 febbraio la decisione in merito all'accoglimento della richiesta di costituzione di parte civile. Grazie a tutti.